Ciao a tutti, sono Dario. Ci troviamo oggi al Garage Wintler di Giubiasco assieme ai ragazzi del Ticino Rocket di Biasca. Oggi affronteremo il cambio gomme. Andiamo! Bravo, almeno qua vinci, buono, buono. Gliela buchiamo? Porca! Are you ready to rock and roll? No, no. Dove è questo. Tirarlo via, zi. Ancora andiamo di dove c'è un legume per lavaggio. Hard working, guys. Grazie mille. Grazie a voi. Buon viaggio. Abbiamo due biglietti per te. Grazie. Speriamo di vederci presto in pista. Grazie mille. Put some music. Ciao ciao.